ciao a tutti ragazzi e ragazzi e costretti in questo nuovo video torniamo a fare un haul di primark haul abbastanza consistenza e una spesa abbastanza grande non è la prima volta comunque ci capita di spendere certi cifre da primark anzi ci sente che spende anche peggio ma questo non ci interessa oggi mostriamo ciò che abbiamo preso ovviamente la maggior parte della roba riguarda l'estate allora la maggior parte delle cose sono di alessandro perché gli servivano abbiamo un po rispolverato guardaroba per cui alcune delle cose sono sue partiamo con questa maglia ma anche corte di minecraft questa pagata 4 euro e 50 direi che ci sta poi abbiamo preso due paia di leggings voi direte ma alessandro si mette i leggings no li abbiamo presi per la nostra niputina che è il miglio per il compleanno siccome ad agosto andiamo giù dai miei per cui e gliel'abbiamo presi ovviamente che cos'erano hello kitty questi pagati 5 euro torniamo ad alessandro abbiamo preso ovviamente la maglia di dragon ball z poi costume per andare al mare sempre di minecraft 9 euro altro costume da bagno della marvel sempre 9 euro poi abbiamo preso due set questo è un po spampinata vabbè due set così di magliette intime pagate 6 euro poi altra maglia sempre di dragon ball 9 euro costume 9 euro di bosa altro costume dragon ball altro costume per la parte del sandro abbiamo finito si è un pochettino fissato con sia con minecraft che con dragon ball è preso un po di costumi perché andrò in vacanza con i nonni poi andremo giù dei miei per cui ci servono due robe per me giusto 2 allora maglia pigiama di high school musical per gli avanti degli anni 2000 pagato 15 euro al completo quindi questo più pantaloncino hanno fatto un po di scorta di maschere viso tra l'altro queste erano anche in sconto quindi se andate a primer trovate queste maschere sconto anche vicino alle casse si trovano ce ne erano altre sono sconto quindi approfittatemi poi ho preso questi polsimi di delle brazze erano in sconto a 2 euro queste veramente ragazzi quando vi lavate il viso ve li mettete qua e quando vi scivola l'acqua sul braccio non vi bagnate io continuo io perché marco ormai non ne ha più allora ho preso queste spugnette per il trucco delle principesse perché non sono mai troppe idem queste qua delle brazze piccoline per il contorno occhi alle ultime due cose che non c'entrano niente con primark abbiamo preso della seminar line questa power bank perché ovviamente andando a barcellona usando il telefono vlog eccetera la batteria eccola che abbiamo preso questa qui a magsafe quindi mettete il telefono qui e vi si carica da media world e poi ho preso dall'iper che mi serviva lo shampoo secco per la frangia perché si sporca in un nanosecondo finito siccome come rettano di chiara finito per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi come sempre questo è anche morto ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao